Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme le trecine soffici con lo zucchero, morbidissime. Nel frattempo, intanto, vi mostro gli ingredienti. Abbiamo il latte, il lievito fresco, lo zucchero, un uovo, la farina, metà 00 e metà 00 oppure Manitoba, un pizzico di sale, il burro e la vanillina. Iniziamo aggiungendo nella ciotola il latte che ho riscaldato. Andiamo a sciogliere il lievito. Aggiungiamo anche lo zucchero e la vanillina. E andiamo a sciogliere il tutto. Se utilizzate il lievito secco, invece del lievito fresco, ne dovrete utilizzare un terzo. Andiamo a sciogliere bene il lievito. Così. Aggiungiamo l'uovo. E quindi incorporiamo poco alla volta la farina. Aggiungiamo un pizzico di sale. E iniziamo ad impastare. Solo alla fine aggiungeremo il burro. Che deve essere a temperatura ambiente, sciolto, quasi sciolto, morbido. Aggiungiamo un pezzettino alla volta. Ho aggiunto gli ultimi pezzettini di burro. e continuo ad impastare per farlo incorporare. Adesso mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro. Andiamo a mettere il nostro impasto. E andiamo a lavorarlo. Lo dobbiamo lavorare abbastanza a lungo fino a quando non diventa liscio. Dopo aver impastato per circa cinque minuti, questo è l'impasto che abbiamo ottenuto. E' morbido, ma non è appiccicoso. Ora lo andiamo a mettere nella ciotola. Lo copriamo con una pellicola trasparente. E lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione io non posso saperli perché dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra. Dobbiamo aspettare il raddoppio. Il nostro impasto è raddoppiato. In casa c'erano 25 gradi circa ed è raddoppiato in tre ore. Ora eliminiamo la pellicola e andiamo a stenderlo. Cercando di non maltrattarlo troppo. Dobbiamo ottenere un rettangolo. Dello spessore di circa un centimetro. Quindi, così. Ecco, questo deve essere lo spessore che dobbiamo ottenere. E' un centimetro. E ora andiamo a tagliare prima per metà e poi per il lungo. Quindi. Queste saranno le fasce che andremo ad intrecciare per ottenere le trecine soffici. Quindi. Ne prendiamo tre. Così. Fa niente se una è più lunga e l'altra è più corta. Le fissiamo in un'estremità e le andiamo ad intrecciare. Così. Ve ne faccio vedere un'altra. Fissiamo l'estremità e andiamo ad intrecciare. Io continuo ad intrecciare e dopo vi faccio vedere il risultato. Allora, queste sono le trecine realizzate. Ora andranno a lievitare di nuovo fino al raddoppio. Mi raccomando di metterle a distanza una dall'altra per favorirne la lievitazione. Ora, una volta poi raddoppiate vi faccio vedere che cosa faremo. le nostre trecine sono lievitate. È passata circa un'ora sempre alla temperatura di 25 gradi. Di 25 gradi. Ora cosa facciamo? Andiamo a spennellarle con il tuorlo sbattuto con un po' di latte. Spennelliamo tutta la superficie della trecina. e poi le andremo a cuocere in forno statico a 180 gradi per 15 minuti circa. Ora, io col mio forno ho visto che 180 gradi per 15 minuti non vengono belle e cotte in maniera uniforme. Quindi, gli ultimi 5 minuti li cuocerò col forno ventilato. Ci vediamo dopo. Le nostre trecine sono cotte. Quando sono ancora caldissime le andiamo a spennellare con dell'acqua o del latte. Una volta spennellate le andiamo ad avvolgere nello zucchero. Così. Ora, io finisco e poi vi mostro tutte le treccine pronte. Le treccine sono pronte. Adesso ne apro una per farvi vedere il loro interno. Guardate. Sono sofficissime. Allora, grazie di avermi seguito per quest'altra videoricetta. Alla prossima. Ciao!